Per gli abitanti di alcuni comuni delle aree interne della provincia di Lucca, nella Valle del Serchio, tutti gli screening oncologici previsti dalla Regione Toscana potranno essere eseguiti sotto casa, in via sperimentale, utilizzando l'unità mobile inaugurata presso la Sala Sufredini a Castelnuovo Garfagnana, completamente gremita non solo di autorità, ma anche di associazioni e cittadini, a dimostrazione dell'interesse che c'è verso le iniziative di Proximity Care, in questo caso verso Proxy Screening, che permette controlli a tappeto per individuare l'insorgenza di malattie oncologiche. Alla cerimonia di presentazione tante autorità, tra cui l'assessore regionale Simone Bezzini, di referenti dei principali attori del progetto, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, con il coinvolgimento di Regione Toscana, Asle Toscana Nord-Ovest e 23 comuni delle aree interne della provincia di Lucca. Sì, questo è il primo effetto tangibile di questo progetto, è sicuramente una delle prime tappe, ma anche una delle più significative. La possibilità che un camper per gli screening arrivi direttamente sui territori della Valle del Cerchio è sicuramente una novità di grandissima importanza. Ci auguriamo che venga colta proprio nell'essenza di ciò che significa e che quindi tutta la popolazione possa trovarne quel vantaggio che sulla carta sicuramente rappresenta. Entro la fine del 2023 l'unità mobile dell'azione Proxy Screening sarà testata, secondo un modello sperimentale già individuato, nei comuni di Castelnuovo, Piazza Alcerchio, San Romano, Galicano, Bagni di Lucca, da estendere poi nel 2024 a tutta la zona distretto della Valle del Cerchio. Diciamo che il progetto inizia la sua fase sul campo, in realtà ha preso corpo tanti mesi fa perché per progettare un camper che possa essere in grado di erogare i servizi per tutti gli screening contemporaneamente in modo da permettere al paziente, al cittadino di fare un solo incontro con il servizio sanitario ha significato un lavoro di progettazione molto articolato.